ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video non faccio tanti filmati perché lavoro sempre sodo oggi ho avuto un attimo di tempo ho fatto un falso montaggio del motore 75 polini sul carto originale barenato e ho preso un paio di misure sapevo che era stato già limato questo motore io mi ricordo a memoria che il motore 65 polini montato da pacco aveva queste fasi qua travaso 113 gradi fronte scarico 110 gradi scarico 165 gradi andate a misurare qua con una semplice guarnizione sotto il cilindro da 0 25 quelle dotazioni della polini abbiamo ottenuto travasi 122 fronte scarico 122 gradi come travasi e scarico 162 gradi quindi come se uno avesse messo una basetta sotto avesse alzato tutte le fasi del cilindro ma qui sono state limate quindi hanno limato hanno ottenuto le travasi e fronte scarico oltre averle alzate le hanno fatti la stessa quantità di gradi infatti si vede anche benissimo che penso prendo cacciavite che qui si vede adesso qui è macchiato d'olio ma cilindro perfetto si vede che sono alla stessa altezza i travasi fronte scarico vedete se si vede sono alla stessa altezza è stata una cosa voluta e non guarda c'è il pistello che è sporco ma tanto due giri si sporca di lungo poi quando lo farò partire parte che adesso tanto poi io faccio montaggio con cuscinetti vecchi devo aprirlo poi fare la chiusura con i cuscinetti quelli buoni e lo scarico l'hanno abbassato un po per fare in modo che fosse tutto dal punto morto inferiore fosse tutto aperto lo scarico l'hanno anche alzato un po per dargli più gradi e l'hanno anche allargato un po perché una piccola percentuale si può allargare un po senza esagerare ovviamente bisogna sempre guardare i grani dove sono dove l'unione delle fasce quando si lima per fare in modo che non capita che il grano va in una luce aperta così se non si spacca tutto io ho messo il disco graduato ho fatto le misure non ho fatto il filmato perché tanto avevo già fatto con 65 di arrivo e adesso non avevo nessuno che potrei riprendermi che avesse tempo possibilità di prendermi allora ho detto comincia a spiegare più o meno cosa ho fatto perché se non lo avessero limato io cosa avevo pensato di metterlo guarnizione in più in base sotto al cilindro quindi anziché una del 0,25 mettevo due del 0,25 e poi sopra anziché spiegare qua il piano d'appoggio montavo la testa senza la guarnizione di rame del 0,50 e ci stavo dentro ancora senza che battessi in testa con la compressione perché avevo uno squish all'incirca perché l'avevo fatto in passato queste cose qua all'incirca di 0,90 praticamente mettendo due guarnizioni del 0,25 sotto senza la guarnizione di rame sopra hai più o meno uno squish di 0,85 e 0,90 e sotto al millimetro ma ci sta ancora dentro se c'entri bene la testa va e così è rifasato tutte le fasi di zalimare ma qui hanno già limato quindi non posso ulteriormente rifasare e adesso poi aspetterò che arrivano altri pezzi farò il filmato e così faccio vedere poi la chiusura con i cuscinetti i paraoli eccetera eccetera i fratelli come limato ho già limato dato la ritoccatina ma non ho stucato i travasi dentro qualcuno mi hanno detto perché non vado a vedere però nell'uovo l'ho sempre fatti senza stuccare è sempre stata una bomba va bene qui c'è il motore del 200 del p e 200 e adesso abbiate pazienza man mano che arrivano i pezzi fuori dei filmati più lunghi di questi interessanti sono solo piacere di aggiornarvi così poi andiamo avanti a montare questo motore poi vediamo lo metto sul bravo provo come va e vi ringrazio a tutti per l'attenzione ci saranno film attivi interessanti e più dilugata maggiore vi auguro buona domenica e ciao a tutti